Nell'attività che abbiamo condotto ieri con le volanti, attraverso la quale siamo riusciti ad arrestare questi quattro malviventi che avevano tentato di rapinare in maniera inconcorso e quindi travisati da Passamontagna, la rapina, l'ufficio postale della zona di Sant'Elia e di Catanzaro, sicuramente si è evidenziata una professionalità da parte degli operatori impegnati e una capacità di coordinamento senza la quale difficilmente in breve tempo saremo riusciti a fare tutto questo. Sicuramente i soggetti arrestati non sono nuovi a questa attività visto che tre dei quattro erano sorvegliati speciali con obblighi di sorgiorno nel comune di Lamezia Terme e quindi già per questo andavano arrestati e sono stati arrestati anche per questo. Hanno utilizzato un'auto che risulta può essere rubata e per questo risponderanno di ricettazione nella loro folle corsa che rischiava di provocare esiti più infausti. Hanno cagionato il danneggiamento non solo dell'auto dell'amministrazione di pubblica sicurezza ma anche dell'autovettura di una donna che come unica colpa aveva quella di transitare nella zona dove loro stavano correndo. Per fortuna la stessa dopo che si è recata presso l'ospedale ha ricevuto le cure del caso ed è poi subito tornata a casa. Un'attività concludo che si è anche realizzata proprio grazie all'implementazione che da poco abbiamo avuto verso l'UPGSP di nuovi operatori che hanno aumentato quindi il parco auto e quindi una possibilità di avere un controllo più capellare sul territorio e una possibilità di contrastare il crimine in maniera più efficace. Grazie.